Oggi la delegazione di Mantova offre una visita a Casa Moreschi, una casa nobiliare di Mantova che dal 1600 è documentata come di proprietà della famiglia Ippoliti di Gazzoldo, una villa, una casa, un appartamento notevole che conserva ancora gli affreschi originali della seconda metà del 500 e dell'inizio del 600, nonché dei soffitti linei estremamente pregiati e perfettamente conservati che riprendono tutti i decori delle casate, delle case nobiliari di Mantova proprio di quel periodo. È una visita importante, è la prima dopo le giornate di primavera, il primo evento in presenza che facciamo dopo le giornate, per noi è importante come segnale di ripartenza per avere un contatto ancora più diretto con i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti.